Nuovo record negativo per la qualità dell'aria ieri a Piacenza. La centralina Arpae di Via Giordani ha registrato 119 microgrammi di PM10 per metro cubo, più del doppio del limite consentito dal piano aria, che è di 50. Un crescendo da martedì scorso, tre giorni da bollino arancione, altrettanti da bollino rosso, fino all'apice ieri, marcato con un lugubre colore viola. Dieci giorni di sforamenti nelle ultime due settimane, di cui sette consecutivi, che hanno raggiunto quota 26 da inizio anno. Ieri tutte le centraline, a parte quella di Corte Brugnatella, hanno oltrepassato il limite, 92 microgrammi di polveri fini a Besenzone, 68 a Lugagnano, 97 al Parco Montecucco, 109 a Gerbido di Mortizza. Intanto le misure emergenziali antismog proseguiranno fino a domani. La pioggia, tanto attesa, stenta ad arrivare, nonostante il passaggio di una perturbazione atlantica in due fasi, tra giovedì e venerdì, in cui le precipitazioni saranno comunque scarse, e tra domenica e lunedì, in cui potrebbero essere un po' più intense. Le temperature rimarranno sopra le medie stagionali e, salvo sorprese, il mese di febbraio potrebbe terminare come il più caldo di sempre. E tra gli effetti di questa stagione bizzarra, oltre alle viole e alle timide margherite fiorite nei campi, ce ne sono altri meno gradevoli, come quello del cane che domenica è finito in clinica veterinaria con lesioni da processionaria, episodi che capitano, ma è inusuale che in questo caso si sia verificato a metà di un inverno travestito da primavera.